E' iniziata oggi la vaccinazione per le forze dell'ordine, anche a Teramo con i vaccini dell'AstraZeneca. Sì, stamattina abbiamo iniziato anche con l'arma dei carabinieri a StraZeneca, proseguiremo diciamo tutto il pomeriggio di oggi e la giornata di lunedì a completare. Poi faremo anche i vigili urbani e la polizia provinciale e anche la guardia costiera. E' chiaro che, diciamo questo è un primo step relativamente al gruppo che si vaccinerà con l'AstraZeneca, l'assessorato della sanità, in particolare l'assessore Veri, a me metterà in campo da oggi una piattaforma dedicata al personale, docente o non docente, università o delle scuole. Per cui ci sarà anche questa piattaforma dove il personale si potrà iscrivere, in modo che avremo anche questo elenco, perché in questa categoria, diciamo con l'AstraZeneca, oltre alle forze dell'ordine, ci sono anche le scuole, personale e non docente, ci sono i penitenziari e quindi, e poi altre categorie perché ne sono davvero tante, e quindi andremo avanti nei prossimi giorni con queste categorie. Perché l'AstraZeneca per le forze dell'ordine, che caratteristica questo vaccino rispetto agli altri? Ma guardi, i vaccini sono tutti più o meno uguali, una delle caratteristiche, un'altra caratteristica, l'importante è che riusciamo a vaccinare il maggior numero di persone nel minor tempo possibile. La scelta non l'abbiamo fatta noi, è stata fatta a livello del Ministero della Sanità e della struttura del Commissario Arcuri. Quindi, però ripeto, la strategia è quella di arrivare ad una immunità di gregge, anche attraverso questo vaccino, così come quando arriverà Johnson & Johnson o altri vaccini. Entro l'estate, come ha detto l'assessore Veri, questo è il vostro obiettivo, sarebbe l'obiettivo? Sicuramente sarebbe un obiettivo fantastico se lo raggiungessimo entro l'estate, ma ci stiamo lavorando, insomma l'assessore ci sta spingendo molto e io come referente regionale sono in contatto quotidiano con i miei colleghi delle altre altre, stiamo facendo un lavoro davvero bello di squadra e questo è anche uno dei motivi per cui l'Abruzzo è fra quelle regioni che comunque si è meglio comportata. Basti pensare che noi abbiamo garantito, come è giusto e normale che fosse, la seconda dose a tutti in un momento in cui i vaccini non c'erano. Questo perché abbiamo saputo ben programmare la vaccinazione. Oggi è una giornata importante perché abbiamo iniziato a vaccinare sia gli ultrottantenni con il comune di Ancarano e sia le forze dell'ordine con AstraZeneca, quindi ci stiamo portando avanti man mano in maniera tale da arrivare al nostro obiettivo che è quello di vaccinare la popolazione il più presto possibile. Voi avete sempre detto che se i vaccini arrivano noi in provincia di Teramo siamo organizzati per poter vaccinare il più gente possibile. Questo è il nostro dovere di fare, ci siamo preparati nel momento in cui iniziarono a uscire le prime disposizioni, abbiamo messo in campo tutte le forze possibili per dare un assetto organizzativo all'attività vaccinale e siamo pronti. Adesso bisogna vedere le quantità che arriveranno nei prossimi giorni, io mi auguro che arriveranno e la prossima settimana inizieremo a fare gli ultrottantenni su tutti i territori provinciali.